Si chiamava Roman Lopez, era un bambino di soli 11 anni di età, purtroppo è stato ritrovato privo di vita in stato di malnutrizione dopo essere stato avvelenato dalla compagna del padre. È stato trovato in un cestino nel seminterrato della sua famiglia dopo che era scomparso nel gennaio del 2020. Solo adesso è stata fatta chiarezza sulle esatte cause che hanno portato alla morte di questo bambino. La tragedia si è verificata in California. Secondo i risultati dell'autopsia, il bambino era malnutrito, non aveva bevuto nulla, quindi era visidratato, non aveva segni evidenti di violenza sul suo corpicino. La matrigna, di nome Lindsay Piper, 38 anni di età, il padre Jordan Piper, di 36, sarebbero stati arrestati e accusati di abusi su minori e torture. La donna sarebbe accusata di aver fatto fuori lei stessa e il bambino andando ad abbenare l'acqua che stava bevendo per motivi che ancora non sono stati diffusi o meglio ancora non sono chiari. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi se vi va. Commentate, un saluto caro da Leandro. Roman Lopez, riposi in pace. Amen.